Vuoi vendere la tua barca? Abbiamo lo strumento che fa per te. Vendi attraverso l'asta online con Wondike. Noi di Wondike abbiamo un processo di vendita diverso dal solito. Prima di inserire la tua barca tra le aste la inseriremo nella nostra vetrina. La tua barca potrà essere valutata da un pubblico di oltre 15.000 visitatori profilati al mese. La tua barca verrà visualizzata nella nostra vetrina generale e nella singola categoria. Avrai una scheda dedicata dove saranno visibili foto, descrizione e dettagli. Gli interessati potranno fare una valutazione non vincolante attraverso una fascia dinamica di importi. E se cliccheranno sul diamante potranno aggiungere il loro wow e la tua barca salirà rapidamente di posizione rispetto agli altri. Più visibilità, più possibilità di vendita. Una volta terminato il periodo di vetrina invieremo il report con tutti i risultati ottenuti, visualizzazioni, condivisioni, wow e valutazione media. Il bene verrà pubblicato in asta con la scheda dedicata fornita di foto e dettagli. Gli utenti interessati potranno visualizzare i dettagli e se interessati fare la loro offerta, il prezzo di riserva scelto da te verrà mostrato solo se raggiunto o superato. Se al termine dell'asta il prezzo di riserva non verrà raggiunto, potrai comunque contattare il miglior offerente. Non aspettare, contattaci e dai una nuova vita alla tua barca. Wondike Luxury Auction